Buongiorno, dal vostro cantautore Gianfranco Lombardi, le campane della chiesa di Chiari hanno appena smesso di suonare, perché la messa è finita. Siamo vicini a Maria, la Madonna, guardate. Questa è la Madonna che io porto al dito, perché come diceva Franco Battiato, che è morto, perché sei un essere speciale. E vi dedico una bella Ave Maria a colui che in nome per condo della verità, che opera io, in nome per condo della verità, è nel bene, non nel male. Vi dedico a tutti un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questo è il crocifisso che porta Gianfranco Lombardi. D'oro, col richiamo in oro bianco. Lo stesso crocifisso che aveva Carol Boettila. Io sono protetto dalla Madonna di Fatima, con lei che ha schivato il proiettile quando ci fu l'attentato al Papa, in Vaticano. Quest'anello mi è stato donato da una suora in Vaticano. Questa è la mia musica. Parte da una enorme forza spirituale, dalla fede. Ecco perché io sono oltre il conservatorio. Perché sono l'artista più vicino a Dio. E chi è più vicino a Dio è il numero uno. Senza ombre di dubbio. Non ho bisogno di dimostrarlo. Lo sono perché lo vuole Dio. Il numero uno. Ma io, nonostante ciò, resto sempre umile. Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.